Occhio al gas, dobbiamo muorci Da abatti te! Morto? No, terra! Morto adesso Non so cosa sto facendo Raccogliendo roba a caso Raccogliendo cosa a caso da per terra Oh, c'è l'arbit! C'è l'arbit! Welcome to the once more I said show Raccogliendo roba 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 O! Qualcuno... Davanti! Da solo per... L'aeroporto Gli amici sono sopra? Si sta chiudendo Forse stava andando dagli amici Prendo le sfarmature Spera Vado Fuck me Ok respira Merda Si troppo un'armatura qua Spera Faccio un altro Un altro Merda davanti Ok gas Spera 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 Eeeh Gas Gas Si si E' calma Che cazzo è questa agitazione? No muoio Mi riesco ad andare su Ci fai Ah Uh Uh Davanti Davanti No 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 P Spera Ne Spera Spera No bravo vai, 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 vai vai, vai, vai quelli a destra lì mi sparo ma adesso libertà scusa la tentazione ora la tentazione top 10 dai vabbè minchia 11 c'è gente che compa qua sotto forse c'è gente qua sotto ho ucciso c'è la terra scusa c'è gente qua sotto l'amico morto anche lui tutti e due a terra loro si sono fottuti no va bene posso prenderli però no 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 pericoloso qui c'è li prendiamo io vado vado da quello più basso ok 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 è la terra ucciso però uccisi tutti dai quello più basso è morto quello più basso è morto non si lascia nessuno indietro non si lascia nessuno indietro non si lascia nessuno nessuno lo lascia indietro non sono come trappola dai sapevo che non dovevamo super non ho colpi c'è un cazzo di niente molto bene un caricatore ok 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 ah oh 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 no oh oh no hanno luttato ma mi sta guardando è fermo è immobile è fermo è immobile eliminato ok non c'è nessun altro però team wipe non ha dato team wipe sul tetto dietro 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 ok ok no dietro scusa sul tetto si sta arrivando terra entra 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 in casa ma sono dentro ha tirato lui what ma sono dentro casa io what 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 ho ho flashato dai mi sono stronzate ma che cazzo è successo ma che ne so mi ho preso ma rai d'aereo sono dentro casa perchè sono c'era una finestra c'era una finestra ero di ecco vabbè bellissimo what the fuck is this no il nostro amico secondo me va a morire aaaaaa è andato alla zona c***o hanno aperto la porta qua ha aperto adesso ha 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 ha